Ciao, sono Leo Gullotta e io sono semplicemente la mia voce. In questo momento di emergenza tutti possono essere utili. Io ci metto la voce. Sono una voce per lo Spallanzani e sostengo la ricerca sul Covid-19 e di tutte le attività assistenziali. Io dono e resto a casa. Dona anche tu.